Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Aiza Aizn Turan e Alp Navruz Navruz, la coppia armoniosa della serie Island Tale. Di recente è arrivata la notizia che Alp Navruz se n'è andato a causa del suo tradimento. La notizia è stata confermata e Alp Navruz ha rilasciato una dichiarazione. Non potevamo essere d'accordo sul fatto che non esistesse il tradimento e ci siamo lasciati. Dopo la decisione di andarsene, Aiza Aizn Turan è stata di recente alla serata Netflix. Avevamo annunciato che si era avvicinato a Muravoz e che era salpato per un nuovo amore. Siamo rimasti scioccati da tali notizie prima di superare lo SOC della separazione. Il fatto che la notizia d'amore, ancora non confermata, non sia stata approvata dalla coppia, ha fatto venire in mente le domande di una relazione a breve termine. Aiza Aizn Turan continua la sua vita con il pieno sostegno della sua famiglia dopo la separazione. Auguriamo successo al giocatore che si sta preparando per nuovi progetti. La bella attrice non ha negato il suo amore per Muravoz. Navruz ne ha parlato e le dichiarazioni del bellatore sono diventate all'ordine del giorno. Dopo una relazione finita, ha detto che non trovo giusto parlare e ha chiuso l'argomento. Ha augurato felicità alla sua ex. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.